Il Partito Democratico, invece che dare soldi alla gente, vuole mettere nuove tasse. I grillini paralizzano tutto, ignoranti e incapaci come sono. Noi vogliamo difendere le imprese italiane. Servono soldi almeno 200-300 miliardi, risarcire chi sta chiuso e non fa fatturato, aiutare il commercio, il lavoro autonomo, il turismo, risorsa fondamentale per l'Italia. Ha detto il Presidente della Commissione Europea, quella tedesca, non prenotate le vacanze, ma vieni in Italia, scopri la bellezza brutta nordica che minacci il settore del turismo, che noi dobbiamo sostenere. Gli alberghi, gli operatori che in questo settore offrono un servizio importante per l'occupazione e lo sviluppo, le imprese balneari. Vogliamo andare sulle spiagge appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, senza vessazioni e divieti, perché sono imprese italiane che valorizzano le nostre coste e che vanno salvaguardate contro le minacce degli ignoranti grillini, nemici del commercio, del lavoro autonomo, delle imprese, di chi opera nel turismo e nelle spiagge. I grillini sono l'oscurantismo e di fatti sono amici di Saviano, che scredita l'Italia sulla stampa estera. Guardate che l'andranghe della mafia dilagheranno, se non daremo soldi alle imprese, e soprattutto il piccolo commercio, le imprese del turismo, finiranno in mano la criminalità se si seguiranno le tragedie dell'impotenza causata dai grillini e dai loro profeti come Saviano e Travaglio. Fare il contrario di Saviano e Travaglio è la ricetta dell'Italia. Sostenere il turismo, sostenere le imprese balneari, mandare a quel paese del Rio e il PD che vogliono tasse. Questi sono un flaggello per l'Italia. Dobbiamo credere al nostro paese e tutelarlo, chiedere soldi all'Europa senza condizioni, cancellare tasse e non metterle, dare soldi alle imprese. Questo bisogna fare e mandare a quel paese il PD, i grillini, Travaglio e Saviano, che sono il virus dell'Italia.